Approfitto, visto che ci siete, per fare una dichiarazione. Ho visto che ultimamente ci sono delle ampie mistificazioni sul fatto che il Movimento 5 Stelle vorrebbe aprire discariche inceneritori in provincia e comunque nel territorio del Lazio. Questo non è vero, non è assolutamente vero. Noi non apriremo né discariche né inceneritori. Basta menzogne. Grazie.